buongiorno bentornati o benvenuti sul canale di lorenzo ciac oggi come promesso su instagram parliamo di dune tre cose prima di iniziare la prima è che non ho ancora letto i libri quindi mi baserò sui film la seconda è che andrò a ruota libera quindi potrei fare spoiler la terza ma non per importanza recuperatevi il documentario che lo trovate qui in scheda su jodorowsky e sul suo dune che non è mai uscito ma dal quale tanti registi di fantascienza hanno preso le idee ad esempio anche lucas ha preso delle idee da jodorowsky per star wars poi come sappiamo il progetto dune finì in mano a lynch qualche anno dopo e lynch non ne aveva voglia non era il suo e sappiamo come andò a finire possiamo incominciare mi sono reso conto che il cinema di oggi ci ha abituato a ridere mi spiego ci sono film d'azione film fantasy film di fantascienza che non sono commedie non sono comici ma tutti i film specialmente quelli moderni hanno un personaggio che è la spalla comica che è quello che va un po a stemperare i nervi dello spettatore che rilassa un attimo lo spettatore che stacca un attimo dalla tensione del film della trama ok è un personaggio che è abituale trovare in un film d'azione in un film fantasy in un film di fantascienza che magari di comico non ha niente ma c'è sempre quel personaggio più o meno marcato che è quello che arriva con la battuta che ti fa un attimo ridere che stempera un attimo il momento di tensione che stai vivendo in questo film in dune questo personaggio non c'è non esiste c'è momoa un po all'inizio nella presentazione del personaggio di momoa che ti fa fare un mezzo sorriso mentre parla con paul ma solo quello duncan nel personaggio di momoa ma solo quello poi finisce non c'è un personaggio fatto apposta che nel nella tensione c'è la scena di tensione sei teso finisce continua il film in una scena colloquiale e in quella scena lì magari c'è quel personaggio che passa e fa la battuta tu ridi stempera un attimo la temperatura stempera un attimo la tensione e poi vai avanti ti guardi il film dove non ridi più ovviamente perché in questo film non c'è in questo film sei sempre teso diciamo che anche la colonna sonora non è che ti aiuta non so se avete fatto caso la colonna sonora di dune è pesantissima è pesante se tu compri dei cd della colonna sonora di dune puoi farci una casa antisismica perché pesantissima poi il cd pesa talmente pesante alla musica che neanche il cd pesa è molto pesante molto bella molto bella mi è piaciuto tantissimo specialmente nei momenti in cui c'è l'attacco dei degli arconnen è molto bella però pesa tantissimo proprio te la senti sulle spalle te la senti sul petto proprio e non è l'unica cosa che è pesante di questo film ma ci arriviamo quindi se siete fra quelli che si sono un po abbioccati se siete fra quelli che erano molto tesi non vedevano l'ora di uscire dal cinema se siete fra quelli che hanno sentito un forte peso sul petto credendo di avere un infarto invece era semplicemente il film dune tranquilli non siete strani è perché non siamo abituati a un film che tiene sempre sull'attenzione non siamo quasi più abituati a un film del genere e che dura così tanto soprattutto a me non me ne vengono in mente negli ultimi anni di film che non hanno neanche un momento in cui ridi che la tensione è fortissima che la colonna sonora è così pesante e che dura così tanto in questo momento magari poi mi verrà in mente ma in questo momento non ce l'ho non mi viene in mente se ce l'avete in mente commenti parliamo invece adesso dei colori di questa pellicola parliamo di caladan cominciamo da caladan caladan è il pianeta nativo della famiglia atreides che è la famiglia protagonista del film di cui fa parte il paul atreides che è il protagonista del film non so se ci avete fatto caso se avete visto il film probabilmente ci avete fatto caso forse no ve lo dico io ne parliamo adesso caladan ha una colorazione freddissima ma è fredda ma sembra di essere in un frigo è freddissima proprio la pelle delle persone su caladan è quasi bianca eteria quando c'è la scena nel cimitero della famiglia atreides è freddissima ricorda un po la scozia ricorda un po quei posti freddi austeri e malinconici e questo metaforicamente è anche un addio al padre il padre di paul leto che il capo è il governante della famiglia atreides che è austero e malinconico come il suo pianeta e non devo dirvelo io come andrà a finire con leto ok cerchiamo di fare meno spoiler possibili non facciamoli gratuitamente quindi caladan rappresenta anche il padre di paul rappresenta il passato poi arriviamo su arrakis ovvero su dune che secondo me i due nomi del pianeta vanno divisi prima arriviamo su arrakis e poi ci troveremo su dune perché secondo me il punto di vista cambia dal chiamarlo arrakis al chiamarlo dune diciamo che atterriamo su arrakis cercate di seguirmi magari non siete d'accordo me lo dite nei commenti ma cercate di seguire il mio pensiero atterriamo su arrakis arrakis è un pianeta desertico quindi dovrebbe esserci tanto caldo l'immagine dovrebbe far capire che c'è tanto caldo su questo pianeta e invece se ci fate caso non lo percepiamo il caldo di arrakis è un ambiente asettico quello che ci viene presentato all'inizio non c'è un colore che primeggia sugli altri su arrakis non si sente il caldo di arrakis per quanto sia un pianeta desertico non c'è calore non è freddo è quasi freddo non dal punto di vista della luce non dal punto di vista del colore il colore è caldo comunque ma non così caldo come dovrebbe essere per il momento quello di arrakis è un caldo assettico è un caldo che non va a sporcare gli attori villeneuve ci presenta sì una differenza da caladan perché caladan era freddissimo qua è più caldo i colori sono più caldi ma non sono caldissimi fino a quando non c'è l'incursione della casata degli arconnen da quel momento lì non siamo più su arrakis da quel momento lì siamo su dune l'arrivo degli arconnen porterà paul e sua madre jessica a doversi inoltrare nel vero dune nel vero calore di dune nella vera vera fornace che è il pianeta desertico di dune dove il calore sporca l'attore dove il calore ti fa sudare ti fa sporcare paul e jessica si troveranno a dover affrontare i veri pericoli di dune i veri abitanti di dune che sono tutto tranne che assettici sono sporchi sono vivi sono dei guerrieri molto bella sta cosa qua c'è un passaggio sono tre atti ok diciamo il primo che non è tutto su caladan ma c'è caladan che è freddo poi piano piano si scalda l'ambiente fino ad arrivare a dune fino ad arrivare al finale se ci fate caso nel finale ci sono delle scene che sono estremamente arancioni perché sta arrivando l'alba e quindi tutto si tinge di arancione ma è un arancione fortissimo in certi momenti ma ci arriviamo per me questa grande differenza nel colore che troviamo quando passiamo da arrakis ad une sta a significare il rapporto va a simboleggiare il rapporto fra paul e jessica fra figlio e madre all'inizio quando siamo su arrakis il rapporto fra paul e jessica è estremamente freddo c'è sempre il calore materno ma il calore materno è trattenuto perché prima di essere sua madre jessica era una bene jesserit e questo andava a colpire anche suo figlio perché suo figlio non è una persona normale e sua madre non si comportava come una madre normale e quindi era fredda quando passa questo momento quando arriviamo verso il finale quando andiamo nel vero dune che sono loro due i protagonisti che sono sempre insieme cosa succede succede che jessica libera l'amore materno che ha per paul e questo accende dune accende i colori diventa caldo caldo come il calore materno oltre a questo alla fine arriva anche il personaggio di chani che sarà importantissimo se mai dovesse uscire il prossimo episodio il prossimo film su dune e quindi bisogna aspettare che esca il prossimo film per andare a capire secondo me il prossimo film inizierà con un colore bello acceso poi andrà a spegnarsi poi riaccendersi come vi dicevo prima villeneuve ha una regia molto statica guardate i film precedenti blade runner 2049 ne è la prova benché lì la telecamera si muovesse molto di più che in dune in dune la telecamera è quasi sempre statica è quasi sempre ferma è quasi sempre su cavalletto addirittura i movimenti se ci sono sono quasi sempre tutti molto lenti molto molto brevi cioè piuttosto lui stacca in montaggio da una parte dall'altra ma è difficile che si muova in questo periodo sto leggendo un manuale che si intitola dirigere la macchina da presa di gil batman della dino audino editore ve ne leggo un pezzetto ok comunque trovate il link in descrizione se volete comprarlo vi metto il link tranquilli allora allora era il secondo capitolo eccolo qua per i registi professionisti girare con una cinepresa mobile è diventato un requisito standard a livello globale certo alcune di loro riprendono con una cinepresa pressoché fissa ma si tratta di una razza in via d'estinzione quando il pubblico mainstream di tutto il mondo paga fior di quattrini per andare a vedere un film al buio di una sala vuole che la cinepresa mobile gli dia una certa carica ecco siamo davanti a un regista in via d'estinzione perché cosa fa Villeneuve tiene la macchina ferma immobile le più tante sono immobili ed è per questo che non siamo abituati perché il pubblico mainstream proprio come dice il manuale quando va al cinema si aspetta dello spettacolo si aspetta che la macchina da presa vada in mezzo al combattimento ci faccia vedere la minima ruga di ogni singolo personaggio si muova freneticamente ogni tre secondi cambia inquadratura noi non capiamo niente ma è molto bello perché cambia inquadratura ci sono un sacco di colori la musica magari appalla tutta bellissimo noi usciamo non abbiamo capito assolutamente niente di quello che abbiamo visto ma come cazzo fai a non essere felice dopo che sei stato dentro una carne valata ok Villeneuve cosa fa prende tutta questa roba qua la infila in un cestino della romenta e ci dà un altro tipo di cinema un cinema a cui non siamo abituati se ci fate caso Villeneuve anche nelle scene d'azione dove un altro tipo di regista prenderebbe la macchina da presa si butterebbe a capofitto in mezzo andrebbe a colpire gli attori con la macchina da presa quasi lui sta fisso nelle scene d'azione lui è fermo magari si sposta letteralmente con la telecamera ma la telecamera è sempre fissa non si muove quasi mai e se si muove si muove poco e noi a questo non siamo abituati e tutto questo va a confluire nel madonna che pesante che è questo film perché non c'è movimento quindi tu non riesci a entrare nel film con la telecamera tu rimani sempre e comunque per tipo tre ore seduto sul seggiolino del cinema e devo dire che la prima visione anche a me ha pesato tantissimo ci sono rimasto male quando è finito perché io non mi ero reso conto che fosse diviso in due ci speravo prima di sapere qualcosa io speravo vivamente che lo avesse almeno diviso in due perché è troppo lungo per farlo in un solo film abbiamo visto cosa succede se si cerca di fare dune in un solo film ci speravo ma non lo sapevo e quindi ci sono rimasto malissimo anche perché comunque il finale è molto netto tagliato lì così ma da un'altra parte ero molto contento che fosse finita non ce la facevo più ero stremato ero stanchissimo stanchissimo ero sempre in tensione così aspettare cosa succede cosa fanno perché c'è questa colonna sonora che mi pesa così sulle spalle e poi finisce dice come cioè sei sollevato da una parte sei tristito dall'altra e so che per molti è successo questo è stata molto pesante la prima visione per molti io vi consiglio di vederlo una seconda volta io l'ho visto la seconda volta e ho amato alla follia letteralmente alla follia questo film alla follia una volta che sai la trama una volta che sai dove andrà a finire il film una volta che più o meno è già conosciuto i personaggi già nella prima visione puoi spaziare su dune puoi spaziare su arrakis puoi andarti a guardare i dettagli la luce le smorfie che fanno i personaggi quello che si dicono una volta che sei nel tuo ambiente che ti sei accasato perché l'hai già visto una prima volta allora lì sì che capisci cosa vuole regalarti Villeneuve regalarti neanche tanto 10 euro di biglietto comunque cosa vuole darti Villeneuve guardatelo una seconda volta guardate questo film almeno una seconda volta io sono sicuro che se dovesse capitarmi probabilmente capiterà che io riesca a vedere questo film una terza volta mi piacerà ancora di più c'è del buono c'è del grasso in dune potrebbe diventare veramente quello che si è messo in testa Villeneuve ovvero il film di questi anni il film del prossimo decennio del prossimo ventennio un film alla non riesco a dirlo ancora proverò alla fine a farvi questo discorso non riesco ancora a dirlo ad esempio una cosa a cui ho fatto caso nella seconda visione è la barba di momoa e voi direte ti sei focalizzato veramente sulla barba di momoa con tutto quello che c'era da guardare tra l'altro anche su momoa tu ti sei fermato a guardare la barba di momoa e ho detto sì mi sono fermato a guardare la barba di momoa all'inizio del film non so quanti ci abbiano fatto caso comunque secondo me più gente di quella che lo dice secondo me comunque all'inizio momoa il personaggio di momoa duncan ha la barba lunga poi quando si ritrovano su arrakis la barba di momoa c'è sempre ma il pizzetto corto e quel pizzetto corto lì vale soltanto per una scena perché nella scena subito dopo sì vabbè non è subito dopo però è quella subito dopo in cui vediamo momoa momoa è senza barba chissà cosa vuole dire vorrà dire qualcosa chi lo sa non lo so io i libri non li ho letti magari nei libri c'è scritta sta roba qua io non la so oppure è qualcosa che ci si non lo so non lo so poi ho paura anche di fare spoiler parlando di momoa quindi lascio perdere ma ditemi se non è vero ci avete fatto caso anche voi alla barba di momoa dai non può essere l'unica aver fatto caso alla barba di momoa cambia tra l'altro io momoa senza barba non l'avevo ancora visto perde tantissimo momoa senza barba niente mi ha chiamato il corriere e aveva questa e mi sembrava giusto metterla immediatamente mentre si parla di dune sembrava giusto parliamo della spezia il golfo della spezia è uno dei golfi più belli al mondo l'attualità è lampante se noi prendiamo la spezia e la sostituiamo con il petrolio ecco che ci ritroviamo immediatamente in iraq o comunque in un altro paese del medio oriente insieme a un drappello di soldati americani è un attimo è un attimo è la stessa cosa ed è lampante anche il discorso che fa stilgar il personaggio interpretato da javier barden che va da letto e gli dice voi venite prendetevi la spezia prendetevi tutto quello che volete ma non avrete mai il mio popolo non riuscirete mai a controllare arachis non riuscirete mai a controllare dune non riuscirete mai a controllare il popolo fremen che tra l'altro da fremen a fremen è un attimo ovviamente la sonanza è palese e che villeneuve abbia voluto fare il paragone con il nostro medio oriente è lampante anche dal punto di vista dei nascondigli dei fremen ovvero questi deserti con queste rocce queste grotte e lì è subito afghanistan l'afghanistan gli afghani hanno sempre combattuto così quando sono stati invasi sia dai russi che dagli inglesi che dagli americani cosa fanno si ritirano in mezzo alle montagne nei deserti in mezzo alle montagne e vagli un po' a prendere la in mezzo non li vai a prendere la in mezzo perché loro conoscono il territorio e qua la cosa è ancora più magica visto che i fremen hanno gli occhi azzurrissimi perché sono sempre a contatto con la spezia e quindi è chiaro che villeneuve ha voluto fare questo paragone con il nostro medio oriente cosa che lynch non mi ricordo ma non mi sembra avesse fatto i fremen di lynch erano semplicemente questi uomini con la tuta nera quella classica da fremen e basta invece qua c'è del nostro c'è del contemporaneo quindi parlano anche una lingua simile a quella araba a quella verbera ed è un popolo molto bello fatto molto bene secondo me a me è piaciuto tantissimo ed è una scelta che villeneuve fa con tutti i popoli quelli di caratterizzarli ed è qui che vi dico non so se questa cosa qua c'è anche nei libri o se è stata proprio una scelta di villeneuve però ad esempio lynch non mi ricordo ma non mi sembra che l'avesse fatta questa caratterizzazione di ogni popolo di ogni pianeta diciamo così e poi c'è anche una caratterizzazione dal punto di vista dell'acqua sul pianeta dell'imperatore quando vanno a parlare per l'esercito e via dicendo senza entrare nel dettaglio piove piove un sacco alla gente dà quasi fastidio la pioggia e quello è il pianeta più ricco è il pianeta dell'imperatore è quello più ricco ovviamente infatti piove c'è tanta acqua tanta da sprecarla poi c'è il pianeta degli Atreides il pianeta degli Atreides c'è l'acqua c'è il mare c'è e loro la sfruttano dicono noi siamo diventati grandi attraverso il cielo e il mare e l'acqua dovremo imparare a controllare il deserto e via dicendo loro hanno l'acqua ed è un pianeta ricco non mi ricordo su quello degli Arconnen però fatto stai che gli Arconnen sono una cosa a sé sono il male puro e hanno il petrolio infatti c'è quella scena in cui il barone è completamente immerso in questa poltiglia nera che sembra il petrolio loro sono quelli sporchi, quelli malvagi, quelli cattivi c'è anche questo uso della luce che a molti non è piaciuto c'è questo uso della luce chiaro-oscuro ma loro sono un pianeta a sé, una razza a sé, una casta a sé non rientrano nelle cose normali, tra virgolette e poi abbiamo Arachis che è un deserto quindi non c'è acqua, il popolo si è trovato questo modo di usare queste tute per bere per non sprecare acqua però c'è una caratterizzazione, c'è una divisione fra passatemi i termini, primo mondo, il mondo ricco, il mondo occidentale che sono gli Atreides e sono il pianeta dell'imperatore e il terzo, fra virgolette, sempre il terzo mondo che sarebbe Arachis dove i potenti vanno a predare dove vanno a prendersi la roba che vogliono senza chiedere il permesso a nessuno parliamo dell'ultima scena l'ultima scena io alla prima visione non l'ho capita anche perché ci sono arrivato stremato non vedevo l'ora che finisse non sapevo che stava per finire quindi ho detto siamo solo a metà adesso devo arrivare l'altra metà e invece no è finita lì quindi la seconda volta che l'ho vista mi ci sono ben focalizzato ed è una scena molto bella molto profonda molto profonda se vi ricordate in una visione Paul vede Chani ucciderlo con un coltello fatto col dente di un verme delle sabbie e alla fine abbiamo una scena in cui Chani dona lo stesso coltello a Paul in un certo senso Chani quando dona questo coltello a Paul sta uccidendo Paul dando così modo al Kisaz Aderak spero di averlo pronunciato bene comunque al messia di sorgere stessa cosa fa il personaggio di Jamis nel momento in cui Jamis muore nasce il Kisaz Aderak è una scena molto potente secondo me tutto questo è molto fico ve l'ho detto ragazzi a chi non è piaciuto seconda visione guardatelo una seconda volta Dune Dune è come la polenta è più buona il giorno dopo quando la friggi ok? magari la polenta il primo giorno molla pesante il secondo giorno fritta è molto più buona magari rimane comunque pesante non sto dicendo che diventa leggera è forse ancora più pesante ma è molto più buona Dune è come la polenta è molto più buona se la friggi il giorno dopo quindi fidatevi guardatelo un'altra volta e vedrete che vi ricrederete quindi siamo arrivati alla fine e secondo me Dune è un gran film e senza tanti movimenti senza risa senza risate ma tutto questo va ad alzare il livello di questo film Villeneuve ha cercato di fare qualcosa di veramente bello di veramente spettacolare e secondo me c'è riuscito ha provato a fare un altro signore degli anelli l'ho detto prima non ce l'ho fatta adesso mi sono buttato ha provato a fare un altro signore degli anelli e soltanto noi e soltanto il tempo dirà se aveva ragione se ha fatto un bel lavoro e se questo qua diventerà il prossimo signore degli anelli siamo arrivati al momento dei saluti io vi chiedo cosa ne pensate voi di Dune se l'avete visto se non l'avete visto se vi è piaciuto se non vi è piaciuto sezione commenti vi attende così potremo iniziare una bella discussione vi ricordo Instagram vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto di lasciare un mi piace di condividere il video con i vostri migliori amici e solo i migliori amici gli altri non li vogliamo mi raccomando vi ricordo anche il documentario di Jodorowsky che è veramente molto bello lo trovate qui nella scheda o comunque anche giù in descrizione ve lo metto ci vediamo la prossima settimana e ciao 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 ciao